Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto in questo seminario su comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione. Come sapete questo è il terzo webinar che realizziamo del ciclo dei webinar sulle competenze digitali. Lo abbiamo chiamato il ciclo, lo abbiamo chiamato il martedì con le competenze digitali, in realtà si chiama competenze digitali per la pubblica amministrazione dal sillabus alla formazione. Con questi seminari online vi terremo compagnia, abbiamo iniziato tre settimane fa e andremo avanti sino al 28 luglio. Vediamo subito, io farò una brevissima introduzione, poi lascerò la parola agli esperti di oggi che sono quelli che vedete nella slide, nel promemoria. Allora come ormai sapete perché avete eseguito i nostri webinar, il sillabus alle competenze digitali è il documento elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che descrive l'insieme minimo delle competenze digitali e delle abilità che ogni dipendente pubblico non specialista ICT deve possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Il sillabus, come avrete visto anche negli scorsi seminari, prevede quindi che si passi da questa sorta di enciclopedia delle competenze digitali alla possibilità di fare una autovalutazione delle proprie competenze digitali e poi quindi di essere orientati alla formazione più opportuna in base ai risultati dell'attività di valutazione. Quindi l'obiettivo di questo ciclo di seminari è quindi affrontare il tema delle competenze digitali per la pubblica amministrazione, vedere quali sono, perché sono così rilevanti, ma raccontare anche qual è il percorso che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez che collabora col Dipartimento in questo progetto vi propongono proprio per lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti di tutta la pubblica amministrazione italiana. Quindi ogni webinar di questo ciclo sarà dedicato ad una competenza, le competenze del syllabus sono 11 e quindi i webinar saranno 11, oggi come vi ho detto prima siamo al terzo seminario. Chiaramente nel webinar che è dedicato ad ogni competenza non potranno essere trattati tutti i contenuti previsti, diciamo che la logica è quella di fornire degli spunti e poi vi daremo anche degli ulteriori materiali che potranno servire per poter approfondire. Per tutto il resto poi ci sarà la formazione che così come vi diremo, vi dirà anche la dottoressa Comito, partirà dal mese di settembre. Quindi veniamo al seminario di oggi. Con il seminario di oggi vi ho detto prima iniziamo a parlare della competenza sulla comunicazione, oggi parliamo di comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione. Quindi vedremo proprio come comunicare in modo efficace, in modo corretto con i propri colleghi, attraverso quali strumenti, quali sono le attenzioni ed i vincoli. Vedremo quindi i temi chiave della comunicazione descrivendo quali sono i temi, gli strumenti più evoluti per la comunicazione, ma anche vedremo come un uso appropriato di questi strumenti è indispensabile per un dipendente pubblico, responsabile e consapevole nel gestire il cambiamento della pubblica amministrazione. Voi vedrete moltissimi, sono la gran parte, sono strumenti che noi tutti utilizziamo abitualmente. Con l'esperto di oggi, Piero Zilio, esperto di comunicazione pubblica, vedremo però come utilizzarli al meglio. Allora passo quindi a presentare i relatori di oggi. Avremo la dottoressa Maria Laura Comito del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale vedremo una parte proprio sul sistema syllabus, cioè in particolare vedremo quali sono le attività e gli strumenti della comunicazione del progetto. Con lei vedremo anche il sito, ci farà vedere nel dettaglio, quindi il sito e le FAQ e tutte le varie sezioni. Poi avremo il nostro esperto del giorno del contenuto sulla comunicazione, Piero Zilio, esperto di comunicazione pubblica con cui vedremo, come vi dicevo, quali sono gli strumenti della comunicazione interna, gli strumenti e il modo migliore per utilizzarli. Allora, una comunicazione di servizio, vi dico subito che come sempre la registrazione del webinar e le presentazioni, le slide dei relatori saranno disponibili sulla scheda dell'evento da questo pomeriggio. Le presenze, le vostre presenze al seminario verranno attestate entro domani. Così come l'altra volta, in questo momento voi potete salutare e scrivere in una chat, da questo momento però dall'avvio dei contenuti del seminario avrete a disposizione uno strumento domande e risposte nel quale voi potrete porre le vostre domande, in particolare vi dico che per le domande sui contenuti della comunicazione alla fine del seminario ci sarà una breve sessione di domande e risposte, quindi noi prenderemo le vostre domande e le porremo ai nostri esperti. Con questo io direi mi taccio, non voglio prendere ulteriore tempo ai nostri esperti, aspetto di vedere Maria Laura Comito in video e stacco la mia webcam. perfetto, prego Maria Laura. Vediamo la presentazione. Eccoci. Allora, buongiorno a tutti, io sono Maria Laura Comito, lavoro all'ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento Funzione Pubblica e faccio parte del team di progetto che sta sviluppando l'iniziativa competenze digitali per l'APA. In questa introduzione di questo webinar vi illustrerò quelli che sono gli strumenti a supporto della comunicazione che stiamo mettendo in campo, alcuni sviluppati, altri appunto in via di sviluppo. Sapete che il progetto competenze digitali per l'APA ha come obiettivo primario quello di promuovere l'autorelevazione e la mappatura delle competenze all'interno delle amministrazioni pubbliche. E quindi in qualche modo di fare in modo che i dipendenti pubblici possano accrescere le proprie competenze digitali e possano accedere a dei percorsi formativi che siano cartonizzati, personalizzati sulla base di una rilevazione strutturata e omogenea appunto dei gap formativi. Chiaramente gli obiettivi di comunicazione sono assolutamente allineati agli obiettivi di progetto per cui attraverso le nostre azioni di comunicazione noi intendiamo intanto promuovere la conoscenza del syllabus e anche questi webinar sono uno degli strumenti che utilizziamo. Le competenze appunto relative al syllabus, promuovere l'utilizzo del sistema di assessment, valorizzare, diffondere e capitalizzare le attività e i risultati del progetto, raccogliere feedback e quindi supportare condivisioni e scambio di conoscenze e esperienze a supporto di un processo anche di aggiornamento del syllabus e della sua applicazione nell'APA e naturalmente promuovere il catalogo dell'offerta formativa online. È chiaro che tutti gli obiettivi di comunicazione seguono, le azioni di comunicazione seguono l'andamento del progetto e le sue evoluzioni, quindi saranno sicuramente tutte azioni a supporto delle varie fasi dello sviluppo del progetto. Le azioni, gli strumenti e in generale l'approccio comunicativo che adottiamo è orientato al target di progetto. Immagino saprete già che il progetto è orientato a tre categorie principali di utenti, diciamo, i dipendenti pubblici, le pubbliche amministrazioni e i formatori, quindi anche le società di formazione. Il dipendente pubblico può essere considerato proprio il target primario del progetto, i dipendenti pubblici che abbiano intenzione di mettersi in gioco, che siano quindi interessati a intraprendere un percorso di autoverifica delle proprie competenze che vogliano approfondire la conoscenza e le potenzialità aperte dall'utilizzo degli strumenti digitali per migliorare i servizi resi al cittadino e resi alle imprese e in generale appunto per migliorare le proprie competenze ed essere sempre di più protagonisti e avere un ruolo partecipe e proattivo nel processo di trasformazione digitale della propria amministrazione. Quando parliamo di dipendente pubblico ci rivolgiamo a un dipendente nella sua accensione più ampia, quindi non parliamo necessariamente di specialisti ai CT, cioè parliamo di un dipendente pubblico che non debba progettare, cioè non debba costruire lo strumento tecnologico ma debba saperlo utilizzare nella maniera più appropriata possibile. Abbiamo poi come stato il secondo target quello delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni sono coinvolte nell'attività di pianificazione degli interventi formativi per i propri dipendenti che grazie a questa iniziativa possono avere uno strumento che consente loro di avere una fotografia in tempo reale dello stato, del livello di competenze digitali all'interno della propria amministrazione, quindi una mappa costantemente aggiornata che possa essere utilizzata a supporto di una gestione più efficace delle politiche del personale e anche in ottica di reclutamento. Infine abbiamo gli enti e le società di formazione che possono costruire i propri corsi formativi, i contenuti formativi dei propri corsi in maniera compliant con il syllabus, quindi correntemente con i contenuti del syllabus, in maniera funzionale a coprire i gap di competenze rilevati. Allora, quali sono i canali di comunicazione e l'approccio che stiamo utilizzando? Allora, sostanzialmente sicuramente il principio guida è l'orientamento al target, quindi noi abbiamo sviluppato, stiamo sviluppando, di strumenti di comunicazione che consentono di rispondere alle esigenze dei target che abbiamo appena presentato. Ricordo che siamo in questo momento in una fase pilota del progetto e quindi gli strumenti che stiamo mettendo in campo e che stiamo utilizzando in questo momento sono anche un po' finalizzati a questa sorta di rodaggio dell'iniziativa che poi è un po' l'output di questa fase pilota. È chiaro che al termine della fase pilota, quando poi l'iniziativa sarà aperta a tutte le amministrazioni, gli strumenti di comunicazione saranno ritarati, saranno riorganizzati, saranno diversi e saranno più strutturati. L'elemento cardine della comunicazione di progetto è proprio il sito web che vi farò vedere tra poco. Il sito web è il punto di riferimento appunto di tutte le informazioni correlate al progetto, quindi lo stato di avanzamento del progetto, eventi eccetera. Abbiamo utilizzato focus group, team briefing, proprio per questa fase pilota dove c'era una possibilità anche di avere dei rapporti di tipo B2B, così come ci siamo focalizzati anche sull'ascolto diretto attraverso indagini di valutazione, sondaggi, quindi questa è una attività ancora in corso. E quindi qui trovate un po' le parole chiave della nostra strategia di comunicazione, l'ascolto, l'orientamento al target, il coinvolgimento e lavoriamo per migliorare l'efficacia della comunicazione. Il sito di progetto è raggiungibile al link www.competenzedigitali.gov.it e contiene alcune pagine che hanno un contenuto più statico, quindi che descrivono il progetto, la mission di progetto, gli attori, quindi tutte le pagine dedicate al target dove troverete poi tutti gli aggiornamenti e anche la documentazione a supporto del target. Il syllabus, l'area dedicata al syllabus che descrive nel dettaglio le competenze digitali e una sezione invece di assistenza che si chiama serve aiuto, all'interno troverete le FAQ e l'help desk. Abbiamo poi delle sezioni gestite in maniera più dinamica, in primis le news. Nella sezione news troverete tutto quello che succede nell'ambito del progetto, quindi le notizie relative al webinar, la notizia relative alla disponibilità di materiali, notizie relative a disponibilità di nuova documentazione o di aggiornamento del progetto. Abbiamo esposto sul sito il nostro piano operativo che quindi iniziamo appunto in condivisione e anche qui lo vedremo dopo, lo trovate organizzato per fasi, sempre aggiornato. Un'area riservata che consente appunto aiutanti registrati di accedere al test di assessment e una demo che consente di effettuare una simulazione del test di assessment. Brevemente sapete che appunto il syllabus, questa lettera di rifiuto a un po' i contenuti del syllabus, li trovate appunto esploti nella sezione di sito. Oggi parliamo dell'area della comunicazione, quindi introduciamo l'area di competenza dedicata alla comunicazione e condivisione e invece gli strumenti che abbiamo messo a disposizione per il supporto e l'ascolto continuo li trovate appunto illustrati qui. Allora la demo è sostanzialmente uno strumento appunto a supporto degli utenti che vogliono acquistire familiarità con lo strumento tecnologico, anche dal punto di vista dell'interfaccia sviluppato in maniera analoga al test reale, chiaramente dietro non c'è tutta la base dati del test reale, però le domande sono strutturate sempre coerentemente con il syllabus, avete lo stesso tempo a disposizione per rispondere alle domande, per cui può essere uno strumento utile per acquisire familiarità anche con l'aspetto tecnologico dell'iniziativa. Abbiamo poi messo in campo gli strumenti di ascolto che sono banalmente le facche del PDEC. Le facche sono riferite non soltanto agli aspetti tecnologici, quindi non troverete soltanto risposte ad aspetti tecnici, come accedere al sistema, come visualizzare un certo tipo di documentazione reportistica, ma le abbiamo ampliate e le abbiamo organizzate per categorie, quindi all'interno della sezione domande e risposte troverete anche informazioni relative alle modalità di edizione, alla formazione oltre il syllabus, eccetera. Quindi il sistema delle facche è alimentato dall'helpdesk, ma in generale da tutti i nostri canali informativi, quindi troverete anche gli esiti, vanno a alimentare le facche anche per esempio gli esiti di questo webinar. Quindi tutto questo per tracciare un po' le richieste, le esigenze, le richieste degli utenti in maniera strutturata e monitorare appunto l'efficacia della comunicazione. L'helpdesk è sviluppato appunto come un servizio di assistenza grazie anche al supporto del form, ci consentirà di capire se eventuali inefficienze o problematiche sono levate a una carenza informativa. Allora, che cosa trovate andando a concludere rapidamente sul sito? Una sezione dedicata al piano operativo, questo è quello che attualmente vedete, siamo nella fase 3, la fase pilota. Dietro ogni fase avete il dettaglio delle attività che fanno parte delle fasi, questo sia per le fasi pregresse che correnti che quelle future. Secondo il planning attuale, entro settembre 2020 sarà possibile, come dicevamo, come diceva Roberta e come abbiamo detto anche nel webinar precedente, accedere al catalogo della formazione a fruire dei primi moduli formativi sviluppati appunto anche grazie al supporto del Formes che saranno resi disponibili, accessibili a partire dal sito gratuitamente. E sarà poi più in generale possibile aderire all'iniziativa. Per cui, su cosa stiamo lavorando dal punto di vista della comunicazione? Allora, sicuramente vi fornire tutti gli strumenti al supporto di queste fasi che si avvieranno a breve. Quindi troverete, entro le scadenze che abbiamo visto prima, le procedure per l'adesione, quindi moduli in guida. Avrete a disposizione la base formativa online che consentirà di chiudere il percorso assessment-formazione e poi assessment-post-formazione per capire se i percorsi di formazione proposti siano stati in grado, siano stati utili per, efficaci per coprire gap formativi rilevati. Naturalmente il sito è in progress, quindi avremo delle nuove funzionalità, avremo delle nuove sezioni, per esempio avremo a breve una sezione dedicata ai webinar. Troverete dei piani operativi sempre aggiornati e vista appunto dell'apertura del sistema, dell'iniziativa a tutte le amministrazioni, stiamo lavorando con Formas per mettere in piedi una rete di facilitatori, comunicatori che ci consentano di raggiungere tutte le amministrazioni anche distribuite, che vogliono aderire, anche quelle distribuite su tutto il territorio nazionale oppure quelle centrali che abbiano un'articolazione territoriale. Quindi, andando a concludere, diciamo l'invito per voi è quello di rimanere sintonizzati sull'iniziativa, in che modo? Dando un'occhiata al sito di progetto, quindi ai piani operativi aggiornati, le azioni dedicate e alle nuove, che forse sono lo strumento più immediato per essere aggiornati sull'evoluzione del progetto. E naturalmente continuare a seguire i webinar che vi preparano, che vi contentano di conoscere meglio il progetto e i contenuti di Stilbus e quindi vi preparano al momento in cui sarà possibile per tutti accedere al test di assessment. Vi ringrazio e lascio la parola a Roberto. Perfetto, grazie Maria Laura, sì molto bene, quindi come vedete diciamo l'idea è in ogni seminario di, insieme all'approfondimento sulla competenza, di dare proprio di fare un approfondimento sul sistema del Stilbus. Quindi oggi abbiamo visto con Maria Laura Comito le azioni, gli obiettivi di comunicazione e anche dove potete trovare le diverse informazioni. Vi richiamo in particolare, così come vi dicevo prima e come vi ha detto Maria Laura, vi richiamo alla sezione delle FAQ e all'helpdesk perché la sezione delle FAQ viene implementata con le domande che vengono poste in ogni seminario, quindi cerchiamo di renderla dinamica. Allora a questo punto io vi introduco, passo la parola come vi dicevo all'esperto di comunicazione pubblica, Piero Zilio. Con oggi iniziamo a parlare, quindi come vedete iniziamo a entrare nell'area 2 che tratta della comunicazione, in particolare oggi parliamo però della comunicazione e condivisione all'interno dell'amministrazione, mentre nel prossimo webinar tratteremo la competenza 2-2 che riguarda la comunicazione con le altre amministrazioni e con i cittadini. Detto questo quindi io lascio la parola a Piero Zilio. Prego Piero. Perfetto, grazie Roberta. Allora cerco di capire benissimo la presentazione, come visualizzarla. In questo momento non la vedo proprio a schermo intero, chiedo a cortesia Gianluca se mi può aiutare ad allineare gli strumenti e la presentazione. In ogni caso, mentre risolvo questi piccoli problemi tecnici, vi saluto, sono molto emozionato, non solo perché non sono riuscito a far partire subito la mia presentazione, ma anche perché siamo tantissimi. Io sono vent'anni che collaboro con il Formez, occupandomi appunto di comunicazione pubblica e i learning, ma un pubblico così numeroso non l'avevo ancora affrontato. Oggi parliamo di comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione, quindi stiamo parlando di comunicazione interna e non verso il cittadino. Una delle ragioni per cui sono emozionato è anche perché in questa prima presentazione sto tentando un nuovo approccio alla condivisione di queste prime informazioni. Come potete vedere ci sono un meme, ci sono alcuni piccoli meme, ci saranno nelle mie slide con cui ho cercato un po' di riassumere e accompagnare i concetti principali che illustro. Non so se conosciate questa persona, lui si chiama Hide the Pain Arrow, quindi una persona che nasconde il dolore, un po' che si può vedere da questo sorriso tirato e forzato. Perché ho scelto questo meme? Per spiegare cosa significa che un condividere è comunicare all'interno della pubblica amministrazione? Perché la condivisione non si riduce al caricamento di un file. Spesso a volte può capitare che il file venga caricato online, magari sul cloud, su una piattaforma condivisa e poi nessuno lo veda. Non lo vede perché non è segnalata la presenza di questo file, non ci sono notifiche, non abbiamo ancora sviluppato un metodo collaudato per collaborare tutti insieme sullo stesso file. Ecco quindi che quando si parla di condivisione e comunicazione all'interno della pubblica amministrazione, sicuramente io cerco di andare oltre ai dettagli meramente tecnici dell'upload, del caricamento di un file. Altro punto della mia presentazione, quindi altro meme, è cosa si intenda per comunicare. Secondo me la comunicazione, immagino siamo tutti d'accordo anche su questo, non si riduce al semplice invio di una mail oppure di un messaggio su WhatsApp o alla pubblicazione di un articolo o di un post sulla internet aziendale. Ecco quindi che per me la comunicazione è il coinvolgimento delle persone, in questo caso gli altri dipendenti, i colleghi, i componenti del gruppo di lavoro che collaborano tutti insieme sulla stessa attività. Perciò quando io parlerò di comunicazione cercherò di farlo nell'ottica di come sia possibile aumentare l'efficacia del nostro messaggio, quali siano gli strumenti a disposizione e quali siano i più opportuni. Perché faccio questa precisazione così all'avvio? Perché secondo me capire la logica alla base degli strumenti di comunicazione e di condivisione all'interno di una pubblica amministrazione è più premiante rispetto alla semplice comprensione meccanica, di didattica, dei dettagli tecnici alla base di questi strumenti. Sono certo che fra noi in questo momento ci saranno anche dei programmatori o dei responsabili dei servizi informatici, ecco gli strumenti della condivisione della comunicazione interna ovviamente vengono usati da un pubblico molto più ampio ed è proprio in quest'ottica che io vorrei cercare di spiegare come sia possibile capire la logica. Qua abbiamo un altro meme, non so se voi conoscete questa persona, lui si è chiamato l'uomo più interessante del web, di solito fa affermazioni di questo tipo, so progettare motori ma quando guido non so dove andare. Ecco questo ben riassume cosa intendo io con capire la logica alla base degli strumenti di comunicazione. Di questo ne abbiamo parlato, pare sia stato uno dei punti di Roberta, appunto la conoscenza di questi strumenti e soprattutto il loro uso appropriato e indispensabile a un dipendente pubblico che voglia gestire in maniera consapevole e partecipe, quindi non subire queste tecnologie ma usarle per crescere autonomamente e anche far crescere l'ufficio e l'amministrazione in cui lavora nell'ottica di una pubblica amministrazione più trasparente ed efficiente. Gli obiettivi di questa presentazione e del capitolo della competenza del syllabus a cui ho contribuito sono quindi non solo conoscere gli strumenti tecnologici a disposizione della pubblica amministrazione ma anche selezionare e usarli consapevolmente nel nostro lavoro di ogni giorno. Direi di cominciare dalla posta elettronica che è uno degli strumenti di cui parlo nel syllabus e che è probabilmente lo strumento di comunicazione più comune con cui abbiamo maggiore familiarità sia all'interno della pubblica amministrazione sia anche nella nostra vita privata. In questo slide ho cercato un po' di riassumere come funziona la posta elettronica ma ecco questo è il massimo di tecnicismo a cui io scenderò nella mia presentazione. Abbiamo qui sulla sinistra un cosiddetto client, quindi uno strumento che ci consente di gestire questa trasmissione di messaggi di posta elettronica che vengono inviati a un server, questo in nero centrale, un server di posta elettronica che poi li vista ai vari destinatari. La posta elettronica quindi, immagino tutti la conosceremo per questo, ci consente di scambiare documenti e informazioni di vario genere, ci consente per esempio alcune di queste informazioni sono relative a riunioni di lavoro oppure alla condivisione dei risultati su riunioni o altri incontri che abbiamo ottenuto. Tutto quanto non necessita di una formalizzazione attraverso il protocollo informatico avviene tramite posta elettronica. Ovviamente abbiamo anche un protocollo informatico per posta elettronica, questa è la posta elettronica certificata, che però non è oggetto di questa competenza del syllabus ma di un'altra competenza. Detto quindi, spiegato in due slide come funziona la posta elettronica e per cosa può essere brevemente utilizzata, vediamo anche com'è possibile sfruttare il nostro client di posta elettronica. Cosa intendo per client di posta elettronica? È il programma che noi abbiamo sul nostro computer ma anche sul nostro smartphone, ormai è anche da qui che seguiamo le conversazioni con la posta elettronica, per creare i messaggi, archiviarli, eliminarli e così via. Sono programmi di tipo anche open source come per esempio Mozilla Thunderbird o sono programmi che troviamo già installati sul nostro telefono, io per esempio ho un iPhone e ho mail, possono essere Outlook e così via. C'è un'ampia offerta di client di posta elettronica che non consentono ovviamente, non si limitano a inviare semplicemente un'email. Prima ho parlato di contenuti dell'email relativi per esempio a fissare delle riunioni, fissare degli appuntamenti. Ecco, il nostro cervello qua si illumina come per il mail quando passiamo dal semplice invio di un'email alla creazione di appuntamenti ricorrenti su un client di posta elettronica o quando, meglio ancora, integriamo il nostro client di posta elettronica alla nostra casella di email con tutta una serie di strumenti per la gestione dei file sul cloud, per la gestione degli appuntamenti che cominciano a far dialogare insieme tutte queste applicazioni. Ecco allora che per me non si tratta più di un semplice e meccanico uso della piattaforma di posta elettronica ma in questo caso di sfruttare al meglio il mio client di posta. Questo è solo un esempio delle cose che si possono fare, io non entrerò nel dettaglio specifico di tutte le funzionalità dei client di posta elettronica. Mi serve, come appunto ha detto Roberta quando ha presentato la giornata di oggi, fornire degli spunti e far capire quali possono essere i vantaggi dell'uso consapevole sia a livello base che intermedio avanzato di tutti questi strumenti. Ho fatto un esempio, ho fatto uno screenshot, quindi ho catturato una schermata dal mio client di posta elettronica che probabilmente molti di voi riconosceranno perché è uno dei più comuni ma invece che visualizzare la schermata con l'elenco dei messaggi, ho visualizzato la mia schermata con l'elenco degli appuntamenti in calendario. Adesso io qua non trovo la freccia per indicare sulla slide che sto presentando, però per esempio ho evidenziato in rosso alcune delle cose che si possono fare. Un degli strumenti, riferisco a quelli nel box in alto a destra, evidenziati in rosso, nuovo appuntamento e nuova riunione, consentono di creare una email che funziona come un promemoria, come quindi un messaggio che non solo viene ricevuto dai miei colleghi a cui scriverei normalmente, una email di convocazione, ma viene anche aggiunto al loro calendario e questo calendario può essere dei più vari, può essere un calendario sul mio stesso client di posta elettronica, per esempio in questo caso Outlook può essere un calendario su iCloud, può essere un calendario su Google Calendar, su tutti gli strumenti delle piattaforme che offrono questa funzionalità e ormai la offrono quasi tutte, ma non solo. Quando io ricevo una email, per esempio, mi capita a volte di ricevere email in cui viene convocata una riunione, ecco che io rispondo, questo è il secondo quadratino che ho evidenziato in rosso sulla parte destra del mio schermo, rispondo con una mail che trasforma quel filone di discussione in un appuntamento, in una riunione vera e propria. A questa riunione io posso invitare partecipanti necessari, facoltativi, posso aggiungere un allegato, quindi un programma, quando finisce questa riunione posso aggiungere, per esempio, il verbale della riunione e così via. Ecco quindi come un client di posta elettronica può trasformarsi in qualcosa di molto avanzato. Adesso ho fatto vedere un client di posta locale, quindi installato su un computer, abbiamo detto alcuni esempi, possono essere email, oppure possono essere outlook e così via, ma potrei anche avere un client webmail. E qui c'è uno screenshot di un altro mio account, su un client webmail molto conosciuto, quindi Google Gmail, che consente di fare cose molto simili. Non solo creare appuntamenti attraverso l'email, a cui io posso rispondere con un sì o un no, ho un forza immediato, posso aggiungere note, posso proporre un nuovo momento d'orario, vedo sempre chi partecipa e chi no, ma posso anche, vedete il pulsante blu che è evidenziato al centro, join with meet, quindi realizzare con degli strumenti di audio, video conferencing avanzati. Quindi ecco come una semplice email si trasforma in qualcosa di più, si trasforma in un'opportunità di avere un calendario con dei promemori e delle notifiche, avere una piattaforma per fare connessioni audio-video e tante altre cose, gestire file allegati. Adesso forse mi sono spinto un po' oltre nell'uso avanzato dei client di poste elettroniche, e quindi nell'uso delle email. Quindi preferisco fare un piccolo posto indietro e chiarire dove, secondo me, comincia l'uso avanzato delle email. L'uso avanzato delle email non bisogna essere degli informatici o dei super comunicatori per riuscire a farlo bene. Poche regole, poche cose, ma buone, fanno comunque capire la differenza fra un uso amatoriale e uno professionale di questo strumento. La prima è infatti garantire la sicurezza della nostra casella, perché la nostra casella non contiene soltanto le nostre informazioni, ma probabilmente contiene anche tante altre informazioni, a volte sensibili, dei colleghi e di altre entità, individui, uffici, eccetera, che scambiano file attraverso questo strumento. Ecco quindi che l'uso avanzato delle email, ed è uno dei punti coperti dal syllabus, è anche la gestione in totale sicurezza, a partire dalla scelta della password di una casella di poste elettronica. Adesso può sembrare banale, può sembrare l'ennesimo meme, la password con dei numeri in sequenza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, però ho una piccola storia, tratto da una storia realmente accaduta, anzi dal momento che mi è stato chiesto di fare degli esempi, anche tratti dalla pubblica amministrazione italiana, io qui ho voluto farlo, senza rivelare nomi, quindi lascerò a voi scoprire chi posso essere stato, c'è stato un periodo nella mia vita in cui ho lavorato come consulente in una grossa pubblica amministrazione del sud, in cui c'erano intorno ai 6.000 dipendenti, quindi numeri abbastanza ampi. Ecco, un giorno mi è capitato di entrare in ufficio e vedere affisso su tutte le porte un documento, una pagina stampata in A4, in cui il servizio informatico segnalava che erano state create le nuove caselle di posta elettronica per tutti i 6.000 dipendenti e che l'accesso era per tutti, nome e cognome, col password 1, 2, 3, 4, che poi si chiedeva di cambiare, ovviamente dopo il primo accesso. Adesso, ok, è stato richiesto di cambiarlo, però il fatto di trovarsi affissi alle porte, così in chiaro, degli annunci che molto candidamente rivelano sia lo username, perché mi basta conoscere il nome di un collega, il nome e il cognome, e mettiamo che questo collega non sia il collega della mia stanza, non sia magari il dirigente o qualche figura, anche più alto, il direttore, ecco allora che io con username e password posso fare qualche piccolo danno, posso, se non altro, entrare e magari cominciare a inviare delle email a nome per conto di una persona. Vero poi mascherato, ma intanto il danno è fatto. Ecco quindi che l'uso professionale, sia che voi siate utenti base, intermedio o avanzati della posta elettronica, comincia proprio dalla scelta di una password. Non solo dalla scelta di una password, ma anche dalla scelta di un oggetto. Io qua cerco di dare, quindi, di illustrare non solo i vantaggi dell'uso professionale di questi strumenti, ma anche qualche trucco, qualche suggerimento su come usarli al meglio. E nel senso spingermi troppo sul tecnico, l'oggetto breve, auto-esplicativo di un'email fa la differenza. Perciò in questa tabella che ho qua inserito trovate sintetizzati alcuni degli oggetti che sono sicuro tutti noi avremo o ricevuto o spedito. Oggetti del messaggio come urgente, importante, rispondi, vedi questo, addirittura dei link. Ecco, questi oggetti non fanno capire di cosa si voglia parlare. E dal momento che riceviamo ogni giorno tantissimi email e che la nostra soglia di attenzione è comunque limitata a causa del sovraccarico informativo che riceviamo, trasformare questi oggetti che non hanno niente di comprensibile, ma sono molto vaghi, urgente potrebbe essere qualsiasi cosa, in qualcosa di più concreto, approvazione del bilancio, orari della nuova sede, verbale della riunione e così via, ecco che ci aiuta a risparmiare molto tempo, a ritrovare rapidamente discussioni quando le cerchiamo magari nel motore di ricerca e come farò a sapere che la bozza del nuovo sito web della regione era nel filone di email che aveva come titolo importante. Sarà un po' più difficile farlo. Ecco, quindi a partire dalla password e dai titoli, dall'oggetto del nostro messaggio, cominciamo secondo me a strutturare meglio il nostro uso di questi strumenti di comunicazione e condivisione all'interno della pubblica amministrazione. Chiudo qui la parentesi sull'email e mi sposto verso altri strumenti di condivisione e comunicazione all'interno della PA che vengono affrontati e illustrati nella competenza 2.1 del syllabus. Uno di questi è la intranet. Cosa è la intranet? Ho anche fatto una tesi di laurea, una cosa come 20 anni fa. La intranet è uno spazio digitale di comunicazione e di lavoro all'interno dell'amministrazione. Questa può essere una definizione tecnica, tecnologica della intranet. In realtà io adesso la intranet mi sono abituato a vederla come un'opportunità, non solamente tecnologica ma soprattutto collaborativa. Perché? Perché la intranet consente di fare tante cose. Innanzitutto gestire la conoscenza. E la conoscenza che in un'organizzazione molto larga, ma anche di dimensioni più ridotte, è a volte frammentata su piattaforme diverse. Possiamo avere un pezzo, tra virgolette, di conoscenza nelle email, altri sui documenti che salviamo sul nostro computer, altri che abbiamo messo sul cloud e così via. Ecco che una intranet consente innanzitutto di raccogliere in un unico spazio digitale tutti questi frammenti, rendendo più facile trovare l'informazione desiderata. Ricordiamoci che un valore aggiunto di tutti questi strumenti è la possibilità di ridurre i tempi, di semplificarci e facilitarci il lavoro. Se sappiamo che tutte le informazioni che possono servirci sono organizzate in un unico spazio digitale, benissimo, questo ci può aiutare a far meglio il nostro lavoro. Ma la intranet non gestisce solo la conoscenza, facilita anche tutte le operazioni che vengono messe in atto per la collaborazione all'interno di un ufficio pubblico. Per esempio, spazi digitali comuni per il lavoro collaborativo, in cui colleghi della stessa squadra, dello stesso ufficio e servizio, lavorano sullo stesso progetto o software specifico per l'assegnazione di compiti o anche banali, anche logistici come la prenotazione di sale, riunioni, eccetera, o anche, come abbiamo detto prima, per il protocollo e così via. Quindi le intranet consentono di gestire la conoscenza, la collaborazione all'interno di una pubblica amministrazione e anche tutta una serie di operazioni legate alla comunicazione che migliorano la trasparenza di un ufficio. Io qua ho scritto, tutti gli utenti di una intranet possono, adesso non sempre possono, ma dovrebbero poter contribuire alle discussioni, commentare, valutare gli aggiornamenti o le notizie che vengono pubblicate e dialogare con qualsiasi collega, a prescindere dal proprio ruolo e dalla posizione nella gerarchia organizzativa. A proposito di esempi, non so chi di voi conosca la intranet del comune di Venezia, si chiama Antana, e proprio quando si parla di strumento di comunicazione interna e strumento utile a favorire e migliorare la trasparenza nella comunicazione interna della pubblica amministrazione, Antana secondo me è un ottimo esempio di intranet dell'APA. Per la sua nascita in un ente che è distribuito su circa 266 di conto a circa 4.000 dipendenti, per esempio è stata avviata, mai diversi anni fa, una discussione nel forum interno, quindi una discussione aperta a tutti, in cui agli stessi dipendenti era chiesto come sarebbe dovuta essere l'intranet che stava per nascere e conoscere le esigenze, quindi questa indagine e ascoltare queste esigenze del personale è chiaramente un segno di trasparenza della pubblica amministrazione, trasparenza non solo a parole o tecnologica, ma anche nei fatti con l'uso che poi viene fatto di queste tecnologie. Sempre a proposito di esempi tratti dalla pubblica amministrazione, qui abbiamo il nostro Picard, uno dei personaggi dei meme molto famosi su internet, con tre strane lettere, WTF che non tradurrò in questo contesto, che ha uno sguardo un po' sorpreso perché la intranet è una rete privata ad uso interno e quindi riservata strettamente al personale autorizzato di una pubblica amministrazione. Io qua ho cercato, ho fatto una ricerca su Google, ho trovato ovviamente la pagina di questa intranet del comune di Venezia, ma noto che Google è riuscito in qualche modo a indicaggiare alcuni contenuti che probabilmente potrebbero anche non essere resi pubblici, trattandosi di una intranet. Per esempio qua, non so se vedete in basso a destra, abbiamo questo CVTemplate, barra di sotto, ecco, un curriculum probabilmente, se caricato sulla intranet, non necessariamente dovrebbe essere anche di pubblico dominio. Perché faccio questa puntualizzazione? Quindi questo lo chiamo esempio con margine di miglioramento, le nostre critiche sono sempre costruttive, l'abbiamo presentata prima come esempio di buona pratica, ma è ovvio che c'è sempre un certo margine di miglioramento. Quando usiamo le tecnologie è molto facile trovare il modo per fare qualcosa, per pubblicare qualcosa, di solito si riduce in un avanti, 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 mi auguro con lettura consapevole delle istruzioni, dei pulsanti di avanti che ci spiegano cosa stiamo facendo. Ecco però che la semplicità tecnologica deve essere anche accompagnata a una consapevolezza di cosa si fa. Il sistema di Altan è costruito con, questi sono tutti i dati pubblici, non sto rivolando niente di che, il sistema di Altan è costruito con un sistema open source, Drupal, che consente quindi di non solo ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca, ma anche specificare quali di questi contenuti debbano essere resi visibili e questi e quali invece no. Ecco quindi che non basta realizzare in questo caso una intranet, c'è sempre da levigare un po' e migliorare il nostro operato, magari anche vedendo cosa è aperto ai motori di ricerca e cosa invece è visibile soltanto a noi. Ricordo infatti che in questa competenza del syllabus e in questo webinar ci stiamo concentrando sulle comunicazioni interne, quindi sugli strumenti di comunicazione e di condivisione interni alla pubblica amministrazione, riservati a chi lavora in questi uffici. Per quel che riguarda invece la sezione spunti di questo webinar, io ho fatto uno screenshot, quindi ho catturato la schermata non proprio di una intranet ma di un sito web pubblico, della pubblica amministrazione, in questo caso siamo nel Regno Unito, che come vedete da questa grande barra blu orizzontale parte e si concentra da subito su una funzionalità ben precisa, il motore di ricerca. Vi ho parlato prima del motore di ricerca, l'indicizzazione su Google in maniera diciamo un po' negativa, adesso però vediamo come la ricerca sia una funzionalità in realtà che io reputo una killer app, una killer application, una funzionalità che fa decollare l'uso di una intranet. Il governo del Regno Unito e i cittadini, il sito ufficiale, come primo strumento, come prima funzionalità offre il motore di ricerca e questo è un po' vero anche per noi. A tutti piace pensare che chi cerca informazioni sui servizi del nostro ossessorato, del nostro comune, della nostra università e così via, si colleghi alla pagina del nostro sito web. In realtà la vera home page del nostro sito web non è mai la home page del nostro sito web, ma è Google, perché è lì che il grosso delle persone apre il proprio computer e poi cerca, non lo so, borsa di studio per poi approdare al sito di un'università. Giusto così un esempio. Le killer application, quindi secondo me per Ingrid una delle killer application è sicuramente la funzionalità di ricerca. funzionalità di ricerca perché, ancora una volta, trovare subito l'informazione che stiamo cercando nel mare magnum dei dati e delle informazioni ci facilita la vita e quindi ci aiuta a lavorare meglio e a continuare a usare questi strumenti di comunicazione e condivisione. Eccoci qua a uno dei miei meme preferiti, questo è Boromir, che in una scena del Signore degli Anelli dice uno semplicemente non va a Mordor, quindi è una città pericolosa e nemica, io qua l'ho trasformato in uno semplicemente non entra in una intranet perché può. Ho parlato di killer application, quindi di incentivi o funzionalità che possono favorire l'uso di questo strumento da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, gli incentivi non finiscono lì ovviamente. Ci sono tante intranet o tanti forum di discussione che tendono, se non curati, a diventare luoghi di desolazione e abbandono, ecco che dobbiamo quindi stimolare, animare e motivare la partecipazione dei dipendenti ai nostri strumenti. Avremo anche le funzionalità migliori, ma se non le facciamo conoscere, se non incentiviamo il loro uso da parte dei nostri colleghi, difficilmente questi strumenti prenderanno piede e quindi avremo l'ennesima frammentazione delle nostre conoscenze, un pezzo per l'email, un pezzo sulla cloud e così via. La gamification è un barbatrucco, quindi è un modo di ripensare alcune delle logiche e delle regole dell'economia ma anche del lavoro sulla base del gioco. Cosa intendo qui ovviamente? Non trasformare la intranet in un gioco, ma sfruttare alcuni dei meccanismi di reward, quindi ricompensa, di formazione, assegnazione di obiettivi, riconoscimento anche della difficoltà, delle sfide che si affrontano e dei risultati che vengono raggiunti su una intranet aziendale. Sulla gamification c'è una lunga produzione, anche accademica. Io a fine di questa presentazione ho inserito oltre alla memegrafia, che credo che sia una delle prime memegrafie mai pubblicate per la pubblica amministrazione, anche nella sitografia per esempio alcuni corsi online e gratuiti sulla gamification che io ho frequentato in passato e che sono molto utili a capire meglio come appunto trarre il massimo da questo nuovo approccio. Adesso però vado avanti perché ci stiamo, il tempo passa per tutti, anche purtroppo per questo webinar con i meme e vorrei riuscire a coprire tutti gli strumenti di comunicazione e condivisione che vengono presentati nella competenza 2.1 del syllabus. Dicevo quindi la intranet consente di condividere e discutere, rende disponibili software e strumenti necessari al lavoro d'ufficio e alla crescita organizzativa, perché non farlo in un contesto che può essere reso un po' più piacevole, senza ovviamente prendere il sopravvento. Non è un gioco lo strumento. E a proposito di strumenti abbiamo visto che la intranet l'abbiamo presentato un po' come un facilitatore della comunicazione e del dialogo fra colleghi e anche fra i vertici a tutti i livelli della pubblica amministrazione, ma anche come contenitore di conoscenza, ovviamente ragionato smart di frammenti di conoscenza. Passiamo quindi adesso a alcuni degli strumenti di condivisione a disposizione della pubblica amministrazione. È probabile che lavorando in una pubblica amministrazione voi già condividiate qualcosa sulla rete locale del vostro ufficio, del vostro servizio, della vostra amministrazione. Di cosa si tratta? Semplicemente il vostro computer, la vostra macchina, quando avete la fortuna di lavorare in ufficio, è collegato direttamente, fisicamente da una rete al server aziendale o della vostra pubblica amministrazione. Questo è stato da sempre il modo per condividere i file, poi ovviamente con la nascita di internet e adesso anche lo sviluppo di alcuni servizi si è evoluto. Qualcuni di voi avranno probabilmente sentito parlare di VPN, quindi una rete virtuale privata. Che cos'è questa rete virtuale privata? Quando viene usata per esempio una sede distaccata di un ufficio che ha comunque accesso ai server condivisi in cui sono caricati i file, i modelli, alcuni moduli di domande e così via. Ecco, quindi una rete virtuale privata è un altro modo per condividere con i documenti. Documenti, adesso se ne fa un gran parlare, cioè adesso già da diversi anni in realtà, il cloud è invece uno spazio di archiviazione online in cui è comunque possibile condividere i nostri documenti. Come funziona? Semplicemente tutte queste informazioni sono inviate nel cloud, quindi sono in alto sulle nuvole, in realtà ci sono dei server che fisicamente ospitano tutti questi dati e queste informazioni, consentendo poi a noi dipendenti della pubblica amministrazione di trarre il massimo vantaggio da questi strumenti. Perché dovremmo condividere i documenti? Secondo me ci sono tre importanti vantaggi, adesso non è una sfida, sono sicuro che voi riuscireste a trovarne anche altro oltre questi primi tre, ma partiamo diciamo da questi tre vantaggi. Il primo è l'immediatezza, le cartelle condivise sono immediatamente disponibili nonostante a noi, ma anche a tutta una serie di utenti contemporaneamente, senza che noi si debba inviare un'email con degli allegati, magari con delle cartelle compresse che poi non si capisce mai come devono essere decompresse per ricreare la struttura di cartelle dentro le cartelle che avevamo previsto all'inizio, non devono essere trasferiti su un appennino USB da portare poi nell'altro computer e così via. L'immediatezza quindi con cui è possibile rendere disponibili file e cartelle è sicuramente uno dei vantaggi della condivisione di file all'interno della pubblica amministrazione come abbiamo visto attraverso una letta locale, attraverso una VPN o anche sul cloud. Un altro vantaggio dell'accessibilità, questi file sono sempre disponibili, possono essere condividi e consultati facilmente e soprattutto possono esserlo in modo sicuro, quindi da remoto e con dispositivi diversi, io posso collegarmi anche col mio smartphone, se sono autorizzato ad accedere a quella cartella posso vederne il contenuto. Quindi ricapitolando i primi tre vantaggi, i primi due che abbiamo visto sono stati l'immediatezza e l'accessibilità con cui possiamo condividere queste informazioni. Il terzo è l'efficienza, con l'efficienza io ho messo l'efficienza 1 di 3, ci sono tre schermate sull'efficienza e probabilmente potremmo andare avanti quasi all'infinito. condividere file e cartelle riduce il rischio di duplicati e file obsoleti. Perché? Non so se a voi è mai capitato cercare di recuperare attraverso le email l'ultima versione del file con i commenti di Tizio Caio, non si sa mai appunto qual è l'ultima versione, chi ce l'ha, abbiamo incluso tutti nel nostro mailing delle persone che ricevono questo file allegato oppure no. Ecco che se i file sono caricati su un'unica piattaforma, in un unico luogo, che sia una rete locale o il cloud, esiste un'unica versione, quella sempre aggiornata, quella condivida, il rischio di creare duplicati, di usare un file duplicato o obsoleto, quindi vecchia, una vecchia versione scompare. Inoltre non vale più la scusa, non so se vi ricordate la scusa, ai miei tempi c'era, non so, il cane ha mangiato i miei compiti oppure il millennium bug, lo parlavamo di vent'anni fa, ha distrutto il mio report e la mia relazione. Ecco, non è più possibile perdere i documenti. Perché? Perché se li condividete in rete, anche se voi perdete il vostro computer, il vostro smartphone, eccetera, quei file saranno in salvo, saranno sempre riscaricabili e tutto il frutto del vostro lavoro non andrà perduto per una semplice distrazione. Sempre in tema di efficienza, file e cartelle condivisi possono essere aperti e modificati in maniera collaborativa in tempo reale. Questo si chiama nel lessico, nel gergo di chi lavora e fa il condivisi con questi strumenti, scusatemi, il co-editing. I file, inoltre, condivisi sul cloud, per esempio, non occupano spazio sul vostro dispositivo. Potete semplicemente vedere l'elenco che avete dei file online e scaricare soltanto quelli su cui realmente vi serve lavorare. Questi file possono essere importati sulle piattaforme online, quindi se avete fatto un documento, non so, con Excel, potete importarlo in un altro formato leggibile su una piattaforma di cloud sharing oppure esportarlo nel formato che poi serve a voi sulla vostra macchina, sul vostro computer, per lavorare su quel file. Adesso si fa un gran parlare di smart working, però qual è la differenza fra smart e remote working? Perché a volte uno può essere portato che ok, metto tutto online, faccio tutto online, ecco qua sto facendo lo smart working. Ovviamente non è proprio così. Io qua ho chiesto aiuto a alcuni cari amici dei meme per aiutarmi a spiegare cosa intenda per smart working. Ecco qua, questo è Willy Wonka, è di solito molto indisponente nelle sue battute, dice, ah, hai condiviso i file sul cloud? Benissimo, parlami dei livelli di accesso e di visibilità. Qualcosa l'abbiamo già vista prima quando abbiamo parlato della intranet che era indicizzata sui motori di ricerca. Ecco che però, quando condividiamo qualcosa online, dobbiamo ricordarci di impostare i livelli di accesso e fare in modo, per esempio, che solo alcuni utenti possano leggere il nostro documento condiviso, mentre altri potranno commentare, modificare o addirittura amministrare il file. Questo vale anche per la visibilità. Il documento che abbiamo condiviso è pubblico e quindi visibile a tutti, è anche in questo caso indicizzato nei motori di ricerca, è nascosto, quindi visibile solo chi ha un link, ma non è indicizzato dai motori di ricerca o è privato, quindi protetto da password. Queste sono banalità che però a volte mancano nell'uso quotidiano delle piattaforme di cloud per condividere strumenti sul cloud. Spesso mi capita infatti di accedere a documenti che hanno magari anche informazioni abbastanza sensibili o riservate semplicemente attraverso il link. In realtà io dovrei proteggere con una password quelle informazioni. Alcune piattaforme, fra l'altro, consentono di limitare la condivisione anche all'esterno di domini autorizzati della propria organizzazione e questo introduce un ulteriore livello di sicurezza alle informazioni che condividiamo. Gli spazi di archiviazione di questi file e cartelle della pubblica amministrazione devono essere tenuti sempre aggiornati. Anche qui adesso accelero un po' per riuscire a coprire tutti gli argomenti che vorrei coprire quest'oggi, ma mi capita spesso di trovare quei famosi luoghi desolati e abbandonati che però sono pieni, stracolmi, ancora una volta, di dati sensibili, occupano spazio, colleghi che magari non lavorano più in quell'area hanno ancora accesso a quelle risorse. Ecco che il mio suggerimento per un uso smart di questi strumenti è eliminare i file inutili e rimuovere gli utenti che non sono più necessari. Non so se voi conoscete questa, lei è la Overly Attached Girlfriend e mi aiuta qui a trasmettere un altro concetto. Grazie per avermi aggiunto sul cloud, ora visualizzo tutta l'attività e i dettagli dei file, quindi commenti, revisioni, eccetera, eccetera. Adesso io sto scherzando, questo in realtà per me è un vantaggio di usare questi strumenti perché mi consente, evitando, non so quanti di noi ancora usino, evidenziare in rosso o in giallo i commenti o le revisioni del testo, ecco, mi consente attraverso la modalità di revisione, la cronologia delle modifiche e le notifiche automatiche di modificare, scusatemi, di intervenire sul testo in maniera più pulita. Qua io ho fatto un esempio, questo è un file che ho condiviso sul cloud, ecco che in verde, in basso su questo file Excel trovate la modifica che sto evidenziando, questa che è del 25 maggio, quindi di ieri alle 8.56 del mattino e io posso sempre ripristinare le vecchie versioni, quindi ho sempre il controllo, pur avendo un solo file, di chi ha fatto quale cambiamento e posso tornare indietro se questo dovesse essere un cambiamento distruttivo. Ecco qua Picard che come avrete intuito è uno dei miei preferiti personaggi dei mele, qua abbiamo Picard che ci aiuta a trasmettere questo messaggio, quando abiliti il coediting, quindi abbiamo visto la possibilità di scrivere tutti insieme e lavorare contemporaneamente sullo stesso file, ma continua a ricevere le email con i soliti allegati che sono sempre ultima versione di, poi ci aggiungiamo un final, def, ultimo, ultimo, ultimissimo e così via. Ecco tutto questo con la condivisione dei file e con la modalità di lavoro in coediting non accade perché noi su un documento, in questo caso abbiamo un documento di Word, possiamo lavorare in contemporanea vedendo qua in basso le tre persone nel rettangolino rosso in basso a sinistra che in quel momento sono collegate sul file e avendo a disposizione modalità di revisione, commenti e così via. Stessa cosa vale anche per altre piattaforme che consentono di segnalare, quindi notificare, inserire commenti su, in questo caso, un altro foglio di calcolo. Ultima cosa, qua abbiamo il, lui si chiama Successful Kid, ricordatevi che c'è una memegrafia a fianco alla conclusione della bibliografia, della normativa, eccetera, di queste presentazioni. Quando integri con successo gli strumenti di condivisione, ecco tu hai questa faccia. E cosa vuol dire integrare con successo gli strumenti di condivisione? Per esempio, molti contatti possono essere integrati attraverso delle API, quindi una sorta di istruzioni fra loro. Non so quanti di voi usino WhatsApp nella pubblica amministrazione e abbiano liste di contatti WhatsApp su Google Drive, su Google Contacts, benissimo, c'è un'applicazione che si chiama MailChimp che consente di importare questi contatti direttamente in un elenco di iscritti a una mailing list. Oppure altre applicazioni, questo è un esempio di una mia cartella su Dropbox in cui tengo i file riservati a una docenza per l'Università di Roma, ecco che qui in basso a destra, vedete cerchiato in rosso, io ho la possibilità di condividere questi file su Trello, su Slack, che sono strumenti per la gestione di tassi, di operazioni, posso far partire una conferenza su Zoom e così via. Passiamo adesso agli strumenti di comunicazione, dal momento che abbiamo parlato di Zoom, che è uno dei tanti, abbiamo i forum interni che ci consentono di organizzare la discussione sulla internet in maniera strutturata, abbiamo per esempio la messaggistica istantanea per comunicazione più rapide, che siano questi individuali o di gruppo. Abbiamo poi strumenti appunto come quello che stiamo usando oggi, di audio-video conferencing, in cui possiamo partecipare da remoto a rinno di lavoro, attività formative e così via. Prima di andare oltre, ecco qua Nio, anzi questo è Morpheus di Matrix, che ci dice che il mezzo è il messaggio, questa è una massima di McLuhan, quindi uno studioso, uno filosofo di comunicazione. Benissimo, questi strumenti hanno un proprio imprinting, sono stati creati per fare qualcosa di ben preciso, se lo strumento è stato creato per favorire la comunicazione, lo scambio fra partecipanti, ecco che difficilmente forzarne l'uso in altri modi sarà un uso di successo. Faccio l'esempio della intranet, e noi usiamo la intranet per pubblicare semplicemente informazioni, ma non consentiamo poi ai nostri utenti di commentare, ecco che stiamo forzando uno strumento tecnologico che è nato per fare qualcosa e che noi poi usiamo per fare tutt'altro. Per capire se lo strumento fa il caso nostro o no, io suggerisco sempre di partire dagli obiettivi. Quale processo organizzativo vogliamo facilitare? Se dobbiamo velocizzare la comunicazione probabilmente l'internet messaging sarà più adatto rispetto alla posta elettronica o i forum di discussione. Ho qua poi presentato una metodologia di passi per scegliere lo strumento, noi di solito partiamo qui alla base, vedete io ho scritto mezzi strumenti alla base di questo punto elencato e diciamo ok, facciamo qualcosa con l'audio video conferencing, facciamo qualcosa con quest'altro e poi però ci scordiamo di tutto quello che c'è sopra. Prima di scegliere il mezzo dovremo fare un'analisi del nostro scenario, quali sono i processi organizzativi che vogliamo migliorare, definire gli obiettivi, scegliere gli interlocutori. Ecco prima ti hai parlato di target, a me non piace molto usare questa parola target perché l'imprinting è un po' quello del marketing degli anni 50 degli Stati Uniti in cui noi abbiamo dei bersagli da colpire. Quando usiamo strumenti di condivisione e comunicazione interna alla pubblica amministrazione, noi abbiamo degli interlocutori, persone con cui vogliamo avere un dialogo, uno scambio, una partecipazione, non persone semplicemente da colpire e così via. Ci sono qua alcuni esempi di come strutturare meglio il nostro testo. Dal momento che abbiamo parlato di scrivere email, scrivere contenuti su una internet e così via, io vi ricordo la regola del triangolo d'oro è questo modello F per cui noi tendiamo a leggere banalmente la prima parola della prima frase e tutto il resto lo saltiamo, quindi cerchiamo di scrivere le cose più importanti all'inizio della nostra email, del nostro messaggio su WhatsApp e quando organizziamo sistemi di audio-videoconferencing ricordiamoci dei dettagli, perché ok è semplice sentirci tutti su una piattaforma online di audio-videoconferencing e poi però cosa succede? Silenzi imparastanti, difficoltà nell'accendere i microfoni, rumori di sottofondo, ci dimentichiamo che abbiamo condiviso lo schermo e facciamo vedere che stiamo navigando tutt'altro, magari sulle nostre email e così via. E ho fatto un schienino riassuntivo molto simile anche per le chat, visto che parliamo dei sistemi di Intel Messaging, differenziando le cose fra gruppi improvvisati e gruppi invece che ho chiamato PRO. Eccolo qui. Io adesso ho concluso, rispondo rapidamente alle domande che mi avete fatto e nel mentre che leggo queste domande vi lascio con questo messaggio compluttista, non è un messaggio compluttista, però è un monito a scegliere consapevolmente le nostre applicazioni di condivisione e comunicazione perché la scelta della tecnologia realizza il cosiddetto lock-in, quindi ci mette in un rapporto di dipendenza con quella tecnologia stesso, perché se noi usiamo per dieci anni Google, per esempio, per il nostro sistema di comunicazione e di condivisione dei file, se Google un giorno decide di cambiare i termini del servizio, ecco che noi avremo qualche problema in più nel cambiare, nel trovare un fornitore differente. Allora, una delle domande è stata, a proposito di applicazioni per fissare le riunioni di lavoro, è necessario che tutti i partecipanti abbiano la stessa email? No, i partecipanti possono usare client di email diversi, l'importante è che questi client supportino un formato di file per le esercitazioni. Roberta, io ti vedo in video, interrompimi pure quanto vuoi, le domande... Ti chiederei di andare verso la fine delle tue slide, così facciamo vedere anche quelle nelle quali hai messo i suggerimenti di normativa e siti utili da consultare, e così nel frattempo ti mettiamo le domande in modo che tu le possa vedere meglio. Ottimo, le mie slide, possiamo tirare tutti in un sospiro di sollievo, io posso riprendere a respirare, sono finite, questa era l'ultima slide, quindi adesso cominciano le slide, diciamo con la normativa legata in particolare qui alle modalità di lavoro remoto per la pubblica amministrazione, la sitografia in cui ho dato magari anche qualche riferimento e consiglio un po' più tecnico su come realizzare alcune delle cose che ho semplicemente accennato, la bibliografia, io qua ho messo soltanto un corso online e un libro, e poi la memegrafia, giusto per chi magari non avesse avuto tutta questa familiarità con i meme, da qui può magari, non dico apprezzare, ma intuire meglio quali erano i miei giochi. Quindi si chiude qui la mia presentazione e riprendo con invece le domande. Sì, prego Piero, io per i partecipanti lo dico, ho selezionato le domande ad alcune, Piero aveva risposto nel frattempo nel seminario, quindi non gliele ho poste, queste sono alcune che ho selezionato, prego Piero. Allora, per esempio faccio adesso le domande sul cloud, una domanda sul cloud, immagino abbastanza ricorrente sia l'eliminazione dei fai dai cloud, è sicura? Di sicuro non c'è niente, anzi c'è solo una cosa, non la dico ora, però diciamo che se vogliamo la sicurezza dobbiamo sicuramente lavorare isolati, sconnettere il nostro computer da qualsiasi rete, anche locale, e restare lì. Diciamo che ci sono dei termini del servizio, perciò chi offre il servizio di cloud, cloud, condivisione sul cloud, si impegna a rispettarlo, ma come quando prendiamo l'aereo, sì, in teoria non dovrebbe succedere nulla, dobbiamo mettere sempre in conto una certa percentuale di rischio, perciò io mi sentirei di dire sì, è sicura, ammesso e non ho concesso che di sicuro ci sia soltanto una cosa nella vita. Un'altra domanda, sempre sul cloud, mi chiede, il cloud ha una limitazione temporale? Allora, non necessariamente, se il cloud è un servizio a pagamento con un abbonamento che si rinnova mensilmente, allora sì, ha una limitazione temporale, a volte il cloud però ha una limitazione di spazio. A proposito del lock-in, di cui ho parlato prima, quindi essere vincolati a un fornitore e all'eventuale cambio dei servizi, le più comuni piattaforme di cloud, da OneDrive a Dropbox, eccetera, anche Google, fino a qualche anno fa offrivano spazio illimitato. Ecco, si sono rete conto che adesso con i terabyte che noi possiamo produrre in termini di video e possiamo produrre veramente tante cose, lo spazio illimitato è un'utopia, almeno per ora. E quindi hanno cambiato i termini di servizio. Chi aveva comprato quelle piattaforme o usato quelle piattaforme contando nel cloud infinito, nello spazio illimitato, si è trovato ad avere qualche problema. Sempre in termini di sicurezza, una domanda sull'utilizzo di software gratuiti, come Meet, Zoom, eccetera. Mi avete chiesto se il servizio informatico è responsabile per accertare la sicurezza. Io direi di sì. Come dicevo prima, è molto facile usare questi strumenti. Avanti, 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 accetta, crea... No, ovviamente sto ragionando per eccesso, non è questo il modo in cui si usano. Però tecnicamente tutti possiamo farlo. Abbiamo però poi bisogno di una valutazione di tipo un po' più tecnico e certamente il servizio informatico è il servizio in grado di accertare la sicurezza dello strumento. Se questa domanda era riferita alle recenti falle di Zoom, soprattutto a marzo, insomma, nei giorni di boom, del lockdown, ripeto ancora una volta, di sicuro c'è solo una cosa. Vediamo un po'. Ci sono alcune domande sulle quali, non essendo io un giurista, non mi sento di rispondere. Per esempio, gli obblighi a carico delle amministrazioni sulla trasparenza verso l'interno. Io ho messo qualche riferimento normativo, però non essendo propriamente il mio ambito, evito di sbilanciarmi. Mi pare di aver risposto di grosso modo a tutte le domande. Abbiamo sforzato di tre minuti, già le 13 e un quarto, quindi ho chiesto scusa per questo ritardo. Ditemi voi, Roberta, se c'è qualcos'altro. No, direi che non c'erano altre domande, perché poi molte si ripetevano. Sono arrivati, devo dire, anche in chat, molti complimenti per la presentazione. Personalmente ti ringrazio perché è stata una presentazione così, come dire, molto divertente. Sappiamo che l'apprendimento passa assolutamente anche attraverso il divertimento, e lo stupore e le sorprese, quindi, come dire, se volevi farlo ci sei riuscito. Personalmente correrò subito a modificare le impostazioni della condivisione di alcuni miei strumenti, perché ho scoperto di fare il 90% degli errori che hai nominato. Quindi ringrazio Piero. Allora, alcune comunicazioni prima del prossimo seminario. Intanto, le slide sono già pubblicate nella scheda dell'evento. La registrazione del webinar sarà disponibile da questo pomeriggio. Come sempre, tra qualche giorno pubblicheremo la scheda del prossimo seminario. Al momento, vi ricordo che martedì 2 giugno è vacanza, ci prendiamo vacanza anche noi, e quindi non ci sarà il seminario. Il prossimo webinar sarà il 9 o il 16 giugno. Non siamo ancora sicuri, quindi vi chiedo, così come siete ormai abituati a fare, vi chiedo di vedere appunto il calendario di eventi PA. Riceverete comunque una comunicazione attraverso la nostra mailing list, che si forma proprio attraverso i partecipanti a ogni seminario. Quindi, insomma, più partecipate, più venite inseriti nelle nostre mailing list. Aggiungo ancora che, anche attraverso le domande che sono state fatte sul sistema del syllabus, sul funzionamento, noi incrementiamo le nostre FAQ disponibili sul sito, così come vi ha raccontato prima la dottoressa Maria Laura Comito. Quindi, consultate le FAQ e utilizzate il servizio di Helpdesk, qualora ne avesse bisogno. Devo dire, oggi ci sono state poche domande sul syllabus, sul sistema e sull'adesione, più domande sui contenuti. A questo punto vi do appuntamento al prossimo webinar, abbiamo sforato qualche minuto, vi ringrazio quindi per la pazienza, vi auguro buon pranzo, arrivederci al prossimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.